Una chiesa di San Nicola gremita e commossa per l'ultima messa di Don Raffaele Grimaldi nella sua parrocchia. Il sacerdote lascia la comunità per il nuovo ruolo. È stato nominato infatti coordinatore nazionale delle carceri italiane, mandato che lo porterà lontano dalla sua amata Giuliano. A cocelebrare la Santa Messa presenti tutti i parroci della città, Monsignor Mario Milano, già vescovo d'Aversa e Monsignor Angelo Spinillo, attuale pastore della diocesi. Un sacerdote di gran cuore, un sacerdote di gran cuore e di intelligenza nel saper gestire le diverse situazioni perché il cuore ci porta ad essere attenti alla vita di ciascuno. L'intelligenza poi a trovare la strada giusta perché non sembra, altrimenti si riesce a camminare bene. Io ringrazio il Signore di aver servito questa comunità parrocchiale di San Nicola per 18 anni. Certamente lasciare una comunità per abbracciare un'altra realtà è sempre un po' difficile, però io convido sempre nella luce del Signore e poi a Roma renderò un servizio soprattutto per i cappellani di tutta l'Italia. Le mie radici sono qua, quindi Giuliano l'ha volto sempre nel cuore, infatti non a caso dopo aver terminato la mia attività pastorale durante la settimana io sto qui a Giuliano il sabato e la domenica per rendere il mio servizio ancora un po' nella parrocchia di San Nicola se necessita o in altre comunità. In questo periodo ho sperimentato ancora di più la bellezza dell'amicizia di tante persone che mi stanno vicino, che mi accompagnano con la preghiera. Io ringrazio uno ad uno le persone che veramente in questi giorni, in questo tempo mi sono state vicine, anche le persone che non conosco perché proprio in questo tempo tante persone si sono avvicinate, mi hanno dato gli auguri, mi hanno incoraggiato.